La prima domanda a cui vorrei cercare di rispondere è semplicemente perché Pilato? Cioè perché quest'uomo, il prefetto della Giudea tra il 26 e il 36, si è imposto ad un certo punto con tanta forza la mia attenzione che ho dovuto interrompere un libro che stavo scrivendo e non ho avuto pace finché non ho portato a terra in qualche mese di lavoro frenetico questo piccolo libro di cui sono venuto a parlarvi. E credo che con altrettanta forza si fosse imposto ad un grande scrittore, a Poliakoff, e come vedete credo è il capitolo privato del maestro Emanuele. In questo capitolo straordinario che non è scritto, almeno nella finzione di Poliakoff, ma la satana stessa. E quindi perché Pilato, vabbè, ci sono tantissime ragioni, la prima ovvia ragione è il fatto che il suo nome, Polsio Pilato, tra l'altro Pilato significa l'uomo con la pila, la glacia, ma più probabilmente è l'uomo del pila, su un bel retuccio a forma di cono. Comunque questo nome, Polsio Pilato, è l'unico nome, accanto a quello di Gesù e dalla Vergine Maria, che figura nel credo, cioè nel simbolo in cui i cristiani hanno compendiato tutta la loro fede. Cioè questo nome di un pagano, che non c'entra in alcuna ragione per avere questa dignità, compare nel credo, come sapete, un crocifisso sotto Polsio Pilato, un crocifisso per voi sotto Polsio Pilato. E naturalmente qui, perché appunto compare questo nome, la prima risposta ovvia è, beh, si trattava, sapete che il cristiano è sempre una religione storica, i fatti narrati di Vangeli, i Vangeli sono fatti storici. E quindi, si può pensare, serviva a datare l'evento storico della passione, della rocifissione. Ed è per questa ragione che i padri lo introdussero nel 381, nel simbolo del suo santinopoli, appunto, la prima relazione del credo, la troca, e soltanto nella seconda relazione che compare. Ecco, però anche qui una domanda, ma perché proprio lui, e non per esempio, come si usava per datare, l'imperatore Tiberio? Perché non dicono crocifisso sotto Tiberio? Come sarebbe stato Pianormazzo? E questo credo, appunto, la prima risposta è perché Pilato nei Vangeli non è soltanto il nome, forse la sola, il solo dedo personaggio del Vangeli, un personaggio in carne e ossa, e le altre figure sono in qualche modo sempre santificate, come Giovanni Battista o gli Apostoli, oppure escono il momento dalla folla che circonda Gesù, o per fuggere da esempio, come il po' il Samaritano, o una senza profezia, come Nazzaro che risorge. Invece Pilato ha un statuto speciale, non ha nessuno di queste motivi, è qualcosa di meno, ma insieme è molto di più. È un uomo di cui conosciamo il carattere, l'esitazione, la paura, il risentimento, il sarcasmo, le obbiosità, l'ipocrisia, come va per ricordarti, è una persona che si dava le mani, per purificarsi dal sangue di quel giusto. Inoltre, come ricorderete anche, l'autore di battute memorabili, a cominciare dalla famosa Che cos'è la verità? A Gesù che vuole testimoniare per la verità, Pilato risponde, ma che cos'è la verità? Oppure come il motto con cui metti a facere gli ebrei che gli chiedono di cambiare l'escrizione sulla croce, e Pilato risponde, quello che ho scritto, ho scritto. O infine, prima del momento di consegnare Gesù al suo pisio le parole fatidiche ecce l'uomo, ecco l'uomo. Non pensate quante cose, tanta pittura, quanta poesia, quanto pensiero è nato da questa frase. E quindi le ragioni per l'interesse non mancavano certo, per questo Vinci ha potuto scrivere che Pilato è l'unica figura dei Vangeli che meriti rispetto alla sua polemica contro i Vangeli. E quindi c'erano le altre ragioni, ma nello stesso tempo c'era qualcosa di più, c'era qualcosa di più che mi spingiva appunto a rileggere i testi, perché mi pareva che l'incontro fugace per tutta sei ore, sappiamo, dal primo mattino alla l'ora sesta, questo incontro fra Pilato e Gesù è in questione, a meno così in Italia, un evento enorme, un evento inaudito, al di là del dramma, già in ormai la passione della ritenzione, quel che è in questione è il fatto che due uomini si stanno di fronte. Tra questi due personaggi, l'uomo di cari Cesare, nel quale è il quadro letiziano, che rappresenta Pilato e Gesù, Pilato è ricamente rispito per un grande caffè, che era appunto a forma di coro premato di getti preziose, la mano inanellata, talmente aperta avanti, che Gesù invece è legato in erne, proprio tra questi due personaggi stanno di fronte, due mondi, inconciliabilmente e immediatamente di fronte, hanno detto spendere il mondo dei fatti e il mondo della verità. Ma nemmeno questo basta, non c'è ancora di più. In questo, in fondo, questo prittorio di provincia, non era una grande, nell'impero romano la Giudea, non era un po' società, in questo prittorio di provincia, si proteggono non soltanto i fatti e la verità, ma, come mai altrove nella storia del mondo, mi pare, l'eternità incrocia in questo punto esemplare la storia, il temporale ed è traversato dall'eterno. Quindi questo è questo che mi premeva di capire. Qual è il senso di questo incontro tra il profano e il divino e il temporale ed è l'eterno? Però appunto, man mano che lavoravo su questo tema, mi sembrava che a questo enigma se ne aggiungesse un altro, un altro ancora più enigmatico, in un certo senso, ancora più oscuro, in cui Pilato è proprio l'elemento decisivo. La domanda era, perché l'incontro, l'incrocio tra questi due mondi, questi due versi, il divino, il mare, il mare, il terra, perché questo incontro prende la forma di un processo? Perché, come sapete, di un processo si tratta. Perché Gesù deve sottoporsi a un processo? Perché questo incrocio tra i due mondi ha la forma giuridica, di un processo. Ecco, ma mano appunto che lavoravo, mi sembra più questo era di diventare il problema centrale, no? Il fatto appunto che Pilato è giusto, è giusto, è accusato. L'incontro tra questi due mondi ha la forma, in apparenza spiegabile, di una crisis. Crisis è il termine greco per giudizio in un processo. Torneremo su questa parola. Perché un processo? Perché questo evento decisivo della storia umana ha la forma di una crisis? E naturalmente la prima cosa da fare per rispondere a questa domanda era tornare a leggere i testi, parola per parola, anche se non si potrebbe pensare che in fondo questi testi dovremmo conoscere la memoria, no? Non basta mai. Io da ragazzo ho ancora conosciuto in una piccola isola del Mediterraneo delle vecchie che recitavano una memoria del Vangelo cantilenandolo, ma temo che non sia più il caso oggi. Io seguirò adesso quindi brevemente, molto brevemente cercherò di ripostruire i fatti, il processo e nel seguente ho una lezione di Giovanni che, come sapete, rispetto ai sinottici è molto più ampia e dettagliata. Ecco, innanzitutto un primo fatto che questo incontro ha una forma drammatica. Il processo ha una forma quasi teatrale, scandita, che Giovanni scandisce in sette scene segnate ogni volta dal lì dentro e fuori. È una forma di pilato uscì fuori, pilato rientra e poi questo è un fatto anche curioso. Quindi questo processo non ha un luogo, è un paio pieni tra due luoghi. C'è un drammatico e teatrale entrare e uscire. come vi ho detto conosciamo la durata di questo drammatica, se io vi riassumo molto brevemente le sette scene. Nella prima, poiché i sacerdoti del Sinepio che hanno consegnato, non dimenticate questa parola consegnare, Gesù e Pilato non vogliono entrare per non contaminarsi di più di Pasqua o Pasqua che siamo da Pasqua. Pilato esce fuori e chiede qual è l'accusa che portate contro quest'uomo? Categoria, non il termine greco per l'accusa. Secondo la legge romana, non il diritto romana, il progetto deve cominciare con l'escrizione dell'accusa che deve essere precisa e non caluniosa. I senedriti non rispondono, ma si ritornano a dire se costui non fosse un malfattore non l'arremo consegnato. Quindi, è del tutto coerente con il diritto romano che il giudice non giudice. Pilato, a questo punto, restringe l'ingegizione e ordina gli ebrei di prendere l'accusato e di giudicarlo secondo la loro legge. Gli ebrei replicano a noi non è permesso uccidere e questo segna un primo cambiamento. Pilato nel corso di queste sette scene cambia, uscilla continuamente da una posizione all'altra. E questa replica produce un primo cambiamento in Pilato che è evidentemente avendo interpretato questa replica come se implicasse l'accusa di un crimine di lesa maestà. Il crimine di lesa maestà è un crimine contro il popolo romano e la sua sicurezza che prevede appunto la punizione con la morte con la crucifissione o con le dente. Seconda scena il lato rietta nel vettorio. Qui avviene il primo intervettorio tra l'altro Gesù. Sei tu il re di Giudei? Comincia questo dialogo sul regno su cui sono state scritte pagine interminabili e come sapete l'avvento del Messia dell'Unto coincide nella tradizione ebranca con la restaurazione del regno. A questa domanda Gesù risponde in modo l'unico nega e insieme afferma la risposta infatti il mio regno non è di questo mondo sono un re ma non di questo mondo l'ambiguità non sfugge a Pilato che curiosamente quindi subito gli chiede dunque tu sei re? la risposta di Gesù sposta il discorso dal regno alla verità tu dici io sono re io sono nato e sono venuto al mondo per questo per testimoniare della verità chiunque dà la verità ascolta la mia voce e qui Pilato pronuncia appunto quella che è stata definita la battuta più sottile di tutti i tempi che cos'è la verità questa frase è stata spesa di tempestrata a partire anche già da l'inizio anche lui come un sarcasmo con cui un romano annietterebbe il nuovo testamento però io credo che se invece la si restituisce al contesto che è un processo allora tanto la domanda di Pilato su che cos'è la verità tanto l'affermazione di Gesù sono venuto a testimoniare della verità non è affatto fuori luogo che cosa si fa in un processo se non ricercare la verità è testimoniare della verità terza scena fuori Pilato esce e dichiara i seguiti io non trovo in lui alcuna colta ma voi avete a usanza che io vi liberi qualcuno per la Pasqua volete che vi liberi il re di lei qui secondo il diritto romano Pilato non avrebbe dovuto procedere così avrebbe dovuto o assorbere l'accusato se lo ritenete annunoscente la formula era l'absorbo o vi detto che non facisse oppure aggiornare il processo non di questo servono ulteriori informazioni invece stranamente ricorre questo esperiente della milizia pasquale fino alla fine ecco questo è un fatto costante Pilato cerca tenacemente di evitare la pronuncia di un bel quindi di nuovo gli ebrei calificano il suo esperiente ridando non lui ma barabba e a questo punto non Giovanni ma Matteo c'è l'episodio della marco del mare quarta scena dentro Pilato fa un altro tentativo per evitare il giudizio prende Gesù e lo fa flagellare la flagellazione era una pena accessoria alla profissione ma Pilato con uno dei suoi gesti contraddittori se ne serve come pulizione di un reato minore sperando che i silegritti siano così soddisfatti Luca lo dice chiaramente lo farò castigare poi lo metterò in libertà quinta scena fuori esce portando Gesù ecco me lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa porta fuori Gesù con la corona di spine sulla testa la canna in luogo di sceltro e il mantello di porpora che i soldati li hanno messo per schermo e panuncia fa una celebre frase ecco l'uomo ecce l'uomo ma si vedete che continuano a sostinare i crocifigi crocifigli Pilato ha un ultimo tentativo dice ancora prendetelo voi e crocifigetelo io non trovo in lui colpa stessa scena di nuovo dentro e questo inespetatamente Pilato rientra con Gesù nuovo interrogatorio Gesù da dove sei tu mi chiede Gesù non risponde il Pilato è nervosito non mi pari non sai del potere di liberarti il potere di crocifiggerti qui Gesù risponde non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'altro per questo un'uomo mi ha consegnato sempre la consegna a te a un peccato più grande questa risposta è importante perché se ci riflettete significa che Gesù riconosce l'autorità di Pilato non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dall'altro quindi gli è stato dato il potere Gesù riconosce il potere legittimo di Pilato Pilato cerca ancora una volta di liberarlo ancora una volta i segneriti gridano se tu liberi costui non sei amico di Cesare chiunque si farre si oppone a Cesare questo sembra essere l'argomento di Cisipo e dico guarda questo può farsi lei quindi si oppone al potere di Cesare ultima scena vi leggo il testo perché nella sua stupenda la comicità non è bene che lo leggono sentite queste parole Pilato condusse fuori Gesù e sedete sul seggio nel luogo chiamato Ritostratos significa il pavimento di pietra in ebranico Kabanà era la preparazione della Pasqua intorno a l'ora sesta Pilato disse per lei ecco il vostro re ma quelli li danno via via crocifigilo disse loro Pilato crocificherò il vostro re risposo che sono i sacerdoti non abbiamo altro re che Cesare allora egli lo consegnò perché fosse crocifisso lo consegnò a loro perché fosse crocifisso questa formula che in greco è parelo che consegnò uno studioso tanto del diritto ebraico che quello romano riesce in Kermann ha osservato che il fatto che solo a questo punto Pilato si siede si siede sul seggio del luogo chiamato Ritostratos greco e perima è il termine del seggio in cui si siede il magistrato latino la traduzione latina è infatti tribuna punto secondo me che il fatto che solo a questo punto Pilato si siede vuol dire che tutto il dibattito precedente non ha carattere accessuale perché un delitto di pesa ma è stata in carattina di morte secondo il diritto romano doveva essere discusso della forma sorelle e formale poi tribunale ma male avrei avuto che continuavo l'analisi del testo del Vangelo di Giovanni diventava sempre più evidente per me che non soltanto come se si riempica il dibattito precedente non era stato un vero e proprio processo ma che nemmeno alla fine al termine della sesta ora il giudice ha pronunciato una nuova sentenza o che ha detto un giudizio Pilato non è detto in una sentenza si invita a consegnare loro Gesù perché fosse crocifisso c'è questa formula parello che consegnò che è identica al risultato di Giovanni ma in tutti i quattro Vangeli Pilato consegna Gesù ai segni questo verbo greco paradidomina consegnare nella vulgaria tradotto tradere a un posto speciale in tutta la passione di Gesù ed è veramente un termine chiave il primo atto di questa tutta la storia è una consegna se potete dire il primo atto della consegna è la scena in cui Gesù e in cui scusate Giuda baciando Gesù lo consegna sempre lo stesso verbo di parere perché essi medriti sapete che per questo Gesù è per eccellenza Giuda è per eccellenza consegnante tradito sapete che non ha specificato di tradire modello viene per consegnare tradire tradire significa solo consegnare ma siccome Giuda è per eccellenza di consegnante traditore per volontà quindi il primo atto di questa consegna è il primo di cui Giuda lo consegna ai signi medriti a loro volta gli ebrei con testi consegnano Gesù al Pilato e alla fine del dramma Gesù esco al Pilato lo consegna di nuovo ai signi medriti e alla fine la fine della vita del dramma Gesù sperando dice il testo consegna lo spirito parelo sempre lo stesso termine in questione sempre in tutta questa storia è in questione una tradizione una consegna sono state scritte molte cose anche su questo non è in questione solo una consegna